cagarella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video per il canale di youtube sarà un tutorial e riguarderà come la possibilità di disattivare e reimpostare un account sulla console xbox one e xbox one x o xbox one s detto questo vando alle stronze vi faccio una piccola premessa questa questa guida vi servirà in caso avete dei problemi per quanto riguarda la gestione delle notifiche in pratica se cercate di cancellarle e vi appaiono sempre comunque anche se dopo averle cancellate o avete dei problemi per quanto riguarda i messaggi non vi appare i messaggi o per esempio vi appare sempre parlo sempre nella dashboard della console vi appare sempre dei trofei vi appaiono sempre i trofei avete già preso e avete già visto perché sapete potete vedere i trofei che avete preso nel menu a rapido se vi appaiono sempre il badge di notifiche di che ci sono sempre queste le stesse notifiche o sempre gli stessi trofei o i messaggi non vi funzionano bene perché non vi appaiono proprio oppure vi appaiono sempre quelle che avete magari già cancellato questa guida può servire a risolvere il problema dico può perché può dipendere da vari fattori a me personalmente è dovuto a questo cioè facendo questa guida sono riuscito a risolvere il problema questa guida è dedicata a chi fa spesso aggiornamenti della console tramite xbox se è un insider alpha fa parte del programma insider alpha e quindi può capitare che spesso e volentieri soprattutto se ci sono parecchi aggiornamenti nel corso del mese potrebbe capitare che ci siano dei problemi per la di questo tipo in teoria dovreste risolvere in pratica può dipendere anche da altro però io vi faccio vedere la mia personalissima esperienza e quindi bando alle stronze e andiamo a andare su xbox one dunque la prima cosa da fare quando andate su xbox one è premere il tasto con il logo del xbox sul pad e dovete andare in impostazioni se non ce l'avete qui come ce l'ho io nel menu rapido basta cliccare sempre il tasto e rb fino ad andare a praticamente qui vedete andate su impostazioni sulla rotella dell'ingranaggio e dovete andare nella fatti specie la prima cosa da fare prima di fare questa cosa in teoria dovreste fare un po anche per quanto riguarda la pulitura della cache e altre cose che comunque io ho fatto delle guide apposite che magari vi linkerò nella sia nella descrizione che nel video dove la prima cosa da fare dovete andare in su questa dicitura disco il blu ray andate su blu ray dopo cliccate e fate archivio permanente cliccate sopra e faceva facetesi fate a cancella archivio permanente io non lo faccio perché l'ho già fatto questo in pratica vi consente di cancellare in modo ottimale tutti i vecchi dati della cache che magari possono essere si sono solo scritti ma non si sono cancellati dai vari aggiornamenti o meno in teoria serve per i dati memorizzati dai blu ray per quanto riguarda i film queste cose qua però da quello che so io memorizza anche altri dati quindi tipo i firmware queste cose qua non è una cosa certa però se lo fate è meglio secondo me detto questo dopo aver fatto questo dovete andare su account vedete e dovete fare rimuovi account ora io vi faccio vedere solo l'inizio della procedura perché vi spiego più o meno i vari passi che ci sono perché l'ho già fatto quando fate rimuove account la cosa che vi dice adesso lo vedete a schermo ecco vi fa scegliere quali account rimuovere se ne avete più di due quindi praticamente voi scegliete l'account da rimuovere lo selezionate ad esempio faccio con questo questo qui ecco vedete fa vi dà questa descrizione voi fate su rimuovi ovviamente leggete bene quello che c'è scritto qui questo questo qui rimuoverà le impostazioni di quell'account sulla console non quelle che avete online cioè su xbox la ci sarete sempre con tutte le impostazioni di privacy privacy che avete salvato quindi non è lo rimuovete solo dalla console quando fate rimuovi automaticamente vi cancellerà tutti i dati riguardanti quell'account quindi se ci sono problemi per quanto riguarda notifiche e queste cose qui come ho spiegato prima in teoria dovrebbero risolversi quando una volta che avete cancellato l'account una volta che avete cancellato l'account vi praticamente vi dovete rifare il login con l'account che avete cancellato per poterlo utilizzare di nuovo ovviamente sulla console quando fate il login se avete dei avete attivato il l'identificazione dei due passaggi vi conviene avere avete fatto il riconoscimento tramite cellulare o app su cellulare o numero di telefoni vi conviene avere il cellulare a portata di mano perché altrimenti non lo potete fare in teoria se avete problemi dovrebbero risolversi io per esempio avevo dei problemi per quanto riguarda le notifiche soprattutto qui avevo dei problemi infatti mi apparivano le stesse notifiche da due settimane che nonostante che lo avessi cancellato più e più volte apparivano sempre quelle quattro cinque notifiche e sicuramente mi hanno rotto un po' le palle di sta cosa e un'altra cosa che mi appariva sempre era questa qui tra gli obiettivi gli obiettivi recenti mi appariva sempre l'ultimo obiettivo che ho preso che non è questo era vi faccio vedere qual era era questo ecco qua era questo qui l'ultimo obiettivo che mi appariva che questo qua è stato come vedete è stato preso il 19 di febbraio quindi era vecchio di più di una settimana dal momento in cui faccio il video e un'altra cosa che mi succedeva anche se io comunque lo vedevo basta che fate così come ho fatto io ve li segna come letti invece qua appariva sempre il numero sul badge vedete qui in alto invece un'altra cosa che mi accadeva pure tre messaggi adesso lasciate perdere la voce richiesta di messaggio quella voi probabilmente non ce l'avete se non siete beta tester membri del gruppo alfa insider di qualsiasi livello anzi no dovete essere alfa inside skip head oppure alfa inside ring più avanzati dunque andate sui messaggi da xbox live a me per esempio non mi apparivano più mi diceva sempre questo account non funziona di provare più tardi ha fatto questo per due o tre settimane eh due settimane due no quando era una settimana circa ha fatto sto problema poi ho fatto questo e sono riapparsi di nuovo niente questa guida è stata abbastanza rapida perché doveva servirvi a questo questo è un modo alternativo a quelli che vi linkerò comunque nella descrizione perché quelli sono metodi più precisi che vanno a cancellare nella maniera più approfondita la cache e le varie ridondanze di sistema però potrebbe capitare che se avete dei problemi di notifica appunto soprattutto quelle riguardano l'account non riguarda neanche xbox live che se andate a vedere su xbox com xbox.com slash status e vi dice che è tutto ok quindi non riguarda il servizio xbox live è sicuramente un servizio legato al vostro account un disservizio scusate legato al vostro account in teoria se è così nel 90% dei casi dovrebbe risolversi se non è così potrebbe essere dipeso da variati fattori a quel punto navighiamo nel campo delle ipotesi e lì potrebbero essere più utili utili anche le altre guide che io vi linkerò qui detto questo cagarella a tutti se il video vi è piaciuto condividetelo se non vi è piaciuto andate a fare il culo e niente buon anniversario di nozze e felice anno vecchio addio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti